. Cherry Season, addio ad Aya Tseoiku, quattro motivi per cui doveva per forza finire. . Cherry Season, ecco perché non ci sarà la terza serie, l'addio alla Sop Turca. Si è conclusa venerdì 15 settembre 2017 la seconda ed ultima stagione di Cherry Season, la Sop Turca trasmessa da Canale 5 al pomeriggio. . La serie interpretata da Serkan Kaioglu e Odjegure l'ha appassionato e intrattenuto il pubblico italiano per ben due stati. A partire dalla calda stagione del 2016, Mediaset ha proposto al proprio pubblico lo scereggiato, di cui aveva già comprato i diritti l'anno prima. . Le vicende di Aya Tseoiku, ambientate a Istanbul, hanno catturato l'attenzione di circa 2 milioni di telespettatori, facendo della stagione del cuore una delle produzioni seriali più seguite del daytime dell'ammiraglia del Biscione. . . . Purtroppo però, come sicuramente i fan sapranno, non ci sarà una terza serie. Molti seguaci della Sop non conoscono i motivi per cui il produttore Fox ha deciso di non realizzare ulteriori edizioni dello sceneggiato. . Per fare chiarezza, noi di Gossip It vabbiamo deciso di parlarne una volta per tutte. . Perché doveva finire, i quattro motivi dello stop di Fox TV. . In Italia è stata trasmessa la versione europea della Sop turca, ovvero quella rieditata. Gli episodi originari, infatti, sono stati rimontati in modo tale da formare puntate da 40 minuti ciascuno, circa. . . La serie, in Turchia, era composta da 59 puntate, 51 facente parti della prima stagione, solo 8 della seconda. . Il primo motivo per cui Fox ha deciso di stoppare Cherry Season si capisce già dal ridottissimo numero di puntate della seconda serie. In Patria, sul finire della prima stagione, erano crollati gli ascolti all'improvviso inaspettatamente. . . Così, presi alla sprovvista, hanno deciso di fare appena otto puntate per dare un finale dignitoso allo sceneggiato, le cui vicende rimanevano in sospeso alla fine della prima edizione. . . Il secondo motivo è legato parzialmente al primo, non c'erano più idee, gli autori hanno dato il meglio di sé nella prima metà dell'edizione d'esordio. . Poi la trama ha lentamente perso senso, rischiando persino di diventare grottesca. . La stagione del cuore finisce qui, perché non ci saranno altre edizioni. Al terzo posto fra i motivi che hanno portato alla fine della sop turca, che è probabilmente il fatto che i protagonisti non erano disponibili a fare nuove puntate. . Sia Serkan Kajoglu che Odje Gurel, infatti, terminate le riprese della stagione del cuore, si sono dedicati ad altro, clicca qui per saperne di più, riscuotendo sempre grande successo. Quarto ed ultimo motivo per cui Cherry 3 non ci sarà, le cose devono finire. . . Pur essendo una lunga serialità, la stagione delle ciligie non è stata pensata come una sop tipo Beautiful, che dura in eterno, semmai come uno sceneggiato di prima time, che può anche proseguire per svariate edizioni ma prima o poi si conclude. . . . . .